Abbiamo parlato di colonizzare la Luna, Marte e perfino Venere. Ma che ne pensi di un luogo freddo, oscuro e che puzzi di peto? Urano. Come sarebbero le condizioni di vita su questo gigante di ghiaccio? Che tipo di insediamento dovresti costruire? E quali pericoli incontreresti nel posto più puzzolente del Sistema Solare? Questo è… Cosa succederebbe se… vivessi su Urano? Benvenuto nella tua nuova casa, sul settimo pianeta distante dal Sole. Saresti ad un'esorbitante distanza di 2,9 miliardi di chilometri dalla fonte d'energia del nostro Sistema Solare. Seguendo i passi della sonda NASA Voyager 2, il viaggio verso Urano durerebbe circa 9 anni e mezzo. Ma una volta arrivato, avresti una magnifica vista su questo gigante di ghiaccio. Quello che troveresti sarebbe un pianeta quattro volte più grande della Terra, attorno al quale orbitano 27 lune conosciute e 13 anelli. In più, ruoterebbe da est ad ovest e inclinato sul fianco. Bene, è tempo che tu raggiunga la superficie. Aspetta, dov'è la superficie? Mentre scendi, tappati il naso. Questo posto puzza terribilmente. L'atmosfera gassosa di Urano è fatta principalmente di idrogeno, elio e metano. Le altitudini più elevate sarebbero le più puzzolenti, grazie al pungente odore di uova marce dell'acido sulfidrico. Scendendo più giù verso la superficie del pianeta, cominceresti a notare che non ce ne sarebbe una. Urano è più piccolo e composto diversamente dai giganti gassosi Giove e Saturno. È costituito da acqua viscida, metano e fluidi di ammoniaca sopra un piccolo nucleo roccioso. Non riusciresti a vedere molto? Urano riceve solo lo 0,27% della luce solare che riceve la Terra. Quindi vivresti al buio. Senza superficie e luce solare non saresti in grado di coltivare il cibo. La tua navicella dovrebbe esserne fornita, ma potresti ottenere acqua dal ghiaccio del pianeta. Troveresti il clima del pianeta molto freddo e ventoso. Le temperature in alcune parti dell'atmosfera possono arrivare fino a meno 225 gradi centigradi. È più freddo di Nettuno, il pianeta più esterno del sistema solare. Enormi nuvole di ammoniaca e cristalli di ghiaccio di metano ti vorticherebbero intorno. Tempeste grandi, quasi due terzi degli Stati Uniti, ti piccherebbero con venti che arrivano fino a 900 chilometri orari. Ma è troppo tardi per voltarsi indietro. Devi capire come sistemarti e sopravvivere in queste condizioni. Stabilirti sulla superficie sarebbe da escludere in principio e i più forti e geli di venti ti dilanierebbero alle altitudini più basse. La tua chance migliore sarebbe quella di un insediamento fluttuante sopra le nuvole. Ma questa non sarebbe la solita sistemazione con dirigibile o navicella. I dirigibili volano solo quando sono riempiti con un gas che è più leggero dell'atmosfera che li circonda. Sulla Terra utilizzeresti l'elio. Su Urano non ci sarebbero gas più leggeri da utilizzare. Questo per via dell'atmosfera, fatta di molecole di idrogeno ed atomi di elio. Tuttavia potresti provare qualcosa di più teorico, come una navicella pseudo sottovuoto. In mece del gas, questo tipo di navicella creerebbe un muoto per sollevarsi. Avresti semplicemente bisogno di rimuovere o aggiungere gas per permettere alla nave di alzarsi o abbassarsi. E sarebbe una tecnologia pulita. Nessun bisogno di carburante. Dovresti metterti comodo perché non saresti in grado di lasciare la tua nave senza una tuta spaziale. Su Urano non potresti respirare e non sopravviveresti un secondo a temperature incredibilmente gelide. Resta al sicuro e goditi il panorama. Ora che hai capito come sopravvivere, come sarebbe la vita su Urano? Per cominciare, noteresti una forza di gravità leggermente diversa da quella a cui sei abituato. Ma considerando che Urano è 15 volte più massiccio della Terra, saresti sorpreso dalla differenza. Diversamente da ciò che potresti pensare, non dovresti preoccuparti di essere schiacciato. La gravità sulla superficie sarebbe solo il 90% di quella terrestre. Quindi, se sulla Terra pesassi 75 kg, ora peseresti 67 kg. Un'altra cosa alla quale dovresti abituarti è il tempo. Un giorno uraniano equivarrebbe a circa 17 ore sulla Terra. Non sembra terribile. Ma tieniti pronto ad un miaggio incredibilmente lungo attorno al Sole. Un anno su Urano sarebbe pari a 84 anni sulla Terra. Potresti morire di vecchiaia prima della fine dell'anno. Potresti perfino vivere una vita intera in 42 anni di un lungo inverno o di una lunga estate. Una bella lunga estate sulla Terra suona piuttosto bene al momento. Magari è tempo di inclinare l'asse terrestre su un lato per vedere che succederebbe. Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se…